eccoci e bentornati sul mio canale riprendiamo la mia rubrica code community i vostri video più belli su call of duty vi ricordo come sempre di passare in descrizione per vedere tutti i requisiti e i passaggi per mandarmi le vostre partite più belle su qualsiasi code oggi torniamo con l'utente poker hl89 con l'id online sir distruttore che ci manda una deatomizer strike fatta su scorch proprio all'ultimo secondo quindi il timer della partita stava terminando ed era partito anche il timer della testata nucleare e quindi a me non resta che augurarvi una buona visione iscriviti al canale 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 iscriviti al canale